Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, 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 cari signori, cari signori, cari signori, a gentile richiesta mi accingo a parlare per l'ennesima volta di un aereo decisamente poco noto, di un aereo italiano, scusate, decisamente poco noto. Per la precisione il Caccia Fabrizio Caproni Vizzola F5, questo, eccolo qua, questo nel Tre Viste. Allora, la fonte è il numero 14 di ottobre-novembre del 2000 di aerei nella storia. Allora, questo che vedete nel Tre Viste è uno degli aerei più sconosciuti, uno degli aerei meno noti e più sfortunati della regia aeronautica durante la Seconda Guerra Mondiale. Perché? Allora, fu il Caproni Vizzola F5, eccolo qua, in una foto dell'epoca, eccolo qui, questo è un altro esemplare, il Caproni Vizzola F5 era un Caccia nato in pratica con la specifica che diede origine alla cosiddetta Serie 0. Della Serie 0 noi conosciamo molto bene, conosciamo molto bene il Rizzane 2000, il Machi C200, il Fiat G50, cioè la prima serie di monoplani di caccia italiani, monoplani metallici, i primi caccia italiani moderni. Il Caproni F5 nacque, diciamo, vide la luce dopo che la Caproni si vide respingere un ordine per 12 CA165, ovvero sia questo aereo qui, questo biplano da caccia qui. Questo biplano da caccia fu il concorrente, un outsider, nella specifica che portò alla costruzione del CR42. Il generale Valle, con la sua usuale mania di far costruire tante piccole serie di aeroplani, per mantenere alto il livello di occupazione delle fabbriche e cercare un ipotetico aereo perfetto, diciamo, dicevo, Valle, la regia aeronautica, aveva ordinato 12 esemplari, eccolo qui, ripeto, 12 esemplari di CA165, questo qui, ma decisero, giustamente a mio giudizio, di cancellare l'ordine, pagare una penale alla Caproni e di mettere in produzione che cosa? 12 Caproni Vizzola F5, 12 Fabrizi F5, cioè 12 di questi aeroplani. Eccoli qui, questo è ancora e nuovamente il tre viste del Caproni Vizzola F5. Ok? Lo vedete? Eccolo qua. Allora, il Caproni Vizzola, come dire, F5 era un monoplano di, come vedete, era un monoplano di aspetto abbastanza moderno. Monoplano, monoposto, monomotore, struttura mista e effettuò il suo primo volo il 19 febbraio del 39 a Vizzola, Ticino, pilotato dal Capitano Giuseppe Pancera. Allora, aveva una struttura molto convenzionale perché fusoliera e piani di coda erano in tubi di acciaio al cromomolibdeno, rivestiti in duralluminio. Le ali erano in legno, ricoperte in compensato. Aveva carrello retratile. L'armamento era quello standard delle due 12 e 7 sparanti in caccia attraverso il disco dell'elica. Il propulsore era il Fiat A74RC38 radiale, ospitato in una capottatura con le classiche bugne, eccolo qua, con le classiche bugne di tipo italiano, eccole qui, che coprivano i coperchi della distribuzione, e raggiungeva una velocità massima di circa 500 km orari a 4756 metri. Aveva la capacità di raggiungere 6.000 metri in 6 minuti e 3, con una tangenza massima di 9.500 metri, con una buona autonomia di circa 1.000 km. Allora, il caccia F5, eccone qua un'altra immagine, eccolo qui. Il caccia F5 ha una storia piuttosto tormentata, perché nacque, non fu progettato da un'industria, ma fu frutto della scuola progettuale militare della regia aeronautica. Venne infatti disegnato dal tenente Fabrizio Fabrizi, un ufficiale del genio aeronautico ruolo ingegneri, un ufficiale del Gari, scusate gli occhiali, che lavorava al centro sperimentale di Guidonia e presentò il progetto già nel 1935. Allora, purtroppo Fabrizi morirà in un incidente di volo il 9 giugno del 1937. La realizzazione del suo aereo, del Fabrizio F5, venne affidata al tenente Gari, ripeto, Gari sta per genio aeronautico ruolo ingegneri, Carlo Riparbelli, suo collega nella progettazione del caccia. Allora, la DGCA, ovvero la Direzione Generale Costruzioni Aeronautiche, credeva nella validità del progetto e volle vederlo realizzato, anche per vedere che cosa se ne tirava fuori. Allora, la regia aeronautica non aveva le strutture produttive per costruire questo caccia progettato dai suoi ingegneri e lo affidò alla Caproni Vizzola, dove venne seguito dal direttore tecnico l'ingegner Guglielmo Negri. Inoltre, il Caproni F5 sarà supervisionato anche dall'ingegner Italo Baldessarri, tant'è che in alcune pubblicazioni i progettisti vengono indicati come Fabrizi Riparbelli e Baldessarri. Allora, la più importante novità del caccia Fabrizi è la cosiddetta ala a profilo variabile. Eccola, l'ala a profilo variabile. Eccola qui. L'ala a profilo variabile era un'esclusiva del Fabrizio F5 e rispetto all'ala del C200 e soprattutto al pessimo profilo alare e ripeto e sottolineo pessimo profilo alare del G50, non innescava fenomeni di autorotazione. Sapete cos'è l'autorotazione, no? Che praticamente un aeroplano vola dritto e in certe condizioni di volo comincia a girare su se stesso. Insomma, e non è una bella cosa, credetemi. L'F5 non aveva i problemi di autorotazione che invece affliggevano il G50 e le prime versioni del C200. Allora, il prototipo, la matricola militare 392 fu valutato a Guidonia nel 39 ed era decisamente superiore al G50. Cioè il Caproni Fabrizi F5 si rivelò essere un aereo molto superiore al G50. Eh, ebbene sì, ebbene sì. Allora, tanto che del Caccia F5 il generale Pinna, che era uno dei migliori esperti di questioni aeronautiche del ministero, scrisse che l'F5 ha una facilità molto marcata di pilotaggio, superiore a quello degli altri monoplani, e assenza del caratteristico fenomeno di autorotazione conseguente alle variazioni rapide di assetto longitudinale. Ripeto, la fonte è ACS 1939, 2 gennaio 2166, rapporto del generale Pinna del 28 settembre 1939. Allora, però c'è un perché, cioè nonostante la sua indiscussa e indiscutibile superiorità sul mediocre Gigetto, il Caproni Fabrizi arrivò in ritardo sul cielo del centro sperimentale di Guidonia. E che cosa accadde? La produzione era ormai già avviata verso il Machi 200 e verso il G50 e non poteva essere indirizzata altrimenti perché le risorse erano quelle che erano. E inoltre c'è anche da dire una cosa che nonostante le sue eccellenti caratteristiche di volo, nonostante fosse realmente un buon aereo, la superiorità del Caproni Fabrizi nei confronti del G50 non era così rimarcata da convincere il Ministero a rinunciare alla produzione del G50. In pratica il Caproni Fabrizi F5 pur essendo superiore al G50, ahimè, non era poi, come dire, così superiore al Gigetto da convincere il Ministero a mettere da parte il mediocre monoplano della Fiat, che soprattutto era Fiat, eh. Il G50 inferiore al Caproni Fabrizi F5 viene costruito per due motivi, l'arrivo in ritardo dello F5 e soprattutto mamma Fiat, ok? Allora, oltre al prototipo verrà costruito un secondo esemplare, ovvero la matricola militare 413 e dall'ottobre all'agosto 1940 furono costruiti altri 11 cacce di preserie, le matricoli militari che andavano da 5921 a 5931, ok? Praticamente i 12 velivoli ordinati. Allora, i velivoli di preserie non avevano la capottina chiusa, questo è il prototipo a capottina chiusa, eccolo qui, e questo è il, la versione definitiva dello F5, di nuovo nel tre viste con la capottina aperta, similmente al Gigetto, similmente al C200, ok? Allora, e... Allora, i velivoli di preserie, ripeto, hanno l'abitacolo del pilota aperto, una maggiore capacità di carico del carburante che viene ottenuta montando un altro serbatoio, il ruotino di cosa fissa, la deriva verticale di maggiori dimensioni e, oibo, per un aereo italiano, e un apparato radio ricetrasmittente del tipo ARC1. È opportuno ricordare anche che uno di questi velivoli F5 di preserie verrà munito su proposta della Direzione Generali delle Costruzioni Aeronautiche di ali metalliche, ma questa modifica non diede origine ad altre commesse. I dodici esemplari di F5 rimasero dodici. Allora, gli F5 ebbero un lungo impiego operativo perché verranno assegnati all'inizio del 1941 alla trecentesima squadriglia stanziata sull'aeroporto di Ciampino, reparto che sarà attivo nella difesa di Roma. Allora, la trecentesima squadriglia era un reparto che, oltre ai cacciafabrizi, utilizzava anche dei biplani CR42. Allora, nel 1942 la trecentesima squadriglia formerà, insieme alla trecentotresima, il centosessantasettesimo gruppo, posto al comando del maggiore di Francesco prima e del maggiore Corrado poi. Allora, i cacciafabrizi in seno a questo reparto, ovvero sia il centosessantasettesimo gruppo, verranno impiegati con criteri estremamente artigianali. Vi ricordate quando ne ho parlato a proposito del caccia CR42 CN? Ok? I nostri caccia notturni erano cose molto artigianali. Va bene. Allora, e vennero usati, ripeto, i cacciafabrizi vennero usati estesamente come caccia notturni insieme ai CR42, con risultati scarsini perché praticamente alla data del 9 luglio 142 il gruppo ha ancora in carico 10 F5 efficienti e questo dimostra veramente la robustezza e la bontà della cellula dell'F5. I velivoli del centosessantasettesimo gruppo opereranno dai campi di Capua, Littoria e Ciampino nel tentativo di effettuare intercettazioni notturne senza peraltro conseguire risultati di particolare rilievo. I criteri artigianali della nostra caccia notturna. Ripeto, in tre anni buoni di guerra la caccia notturna italiana abbatté non più di nove aerei in totale. la maggior parte dei quali nel 42-43 quando i tedeschi ci passarono alcuni radar e alcuni mediocri Dornier 217 da caccia notturna. Insomma, che vi devo dire? Cosa vi devo dire signori? Va bene. Allora, nel luglio del 1943 il centosessantasettesimo gruppo viene trasferito a Littoria, l'attuale latina e a tale data nessuno dei caccia della Caproni Vizzola trattati è ancora in carico al reparto. Infatti nella primavera del 43 gli F5 vengono definitivamente radiati e sostituiti con i Reggiane 2001 CN, i Reggiane 2001 da caccia notturna. Gli esemplari rimasti verranno poi passati alla scuola caccia e definitivamente demoliti verso la fine del 1943. Insomma, insomma, insomma. Il Caproni Fabrizi F5, eccolo qua di nuovo nel Tre Viste, era quello che si dice un buon caccia. Ok? Robusto, facile da pilotare, dalle ottime caratteristiche di volo, estremamente robusto, perché insomma, diciamoci la verità, un aereo di costruzione mista, tra virgolette, all'italiana, ok? Ma che rimane in servizio per quasi due anni senza ricevere praticamente sostituti, ecco, senza essere mai sostituito, perché esistevano solo quei 12 esemplari lì. Dicevo, i dati parlano abbastanza chiaro, l'F5 era un buon aeroplano, l'F5 si pilotava bene, l'F5 era un aereo molto migliore del G50 Gigetto, ma, ma, allora, a parte l'indubbio, indubitabile e pesante impegno Fiat con il G50, ok? Il Caproni Vizzola F5, il Fabrizi F5, purtroppo aveva un problema, arrivò tardi, arrivò tardi, cioè praticamente il prototipo fu pronto quando, fu pronto quando G50 e C200 erano già stati ordinati e non del tutto a torto oggettivamente, insomma, siamo sinceri, ripeto, la Fiat aveva il suo enorme peso politico, economico e industriale nella scelta degli aerei da costruire, ma in questo caso, oggettivamente, anche se superiore, ripeto, al G50, l'F5 arrivò tardi, il prototipo dell'F5 fu costruito troppo tardi e quindi si dovette continuare con la produzione già impostata, già avviata, dei G50. Cosa dire? Una delle tante, tante, tante occasioni perdute. Un aereo, ripeto, che volava bene, dalle ottime caratteristiche di volo, ma penalizzato dai soliti, mediocri, sfiatati motori di fabbricazione italiana, ovvero sia il Fiat A74 RC38 da 840 cavalli, e penalizzato anche da un armamento decisamente scarso. In pratica, il Festival dell'Occasione Perduta, il Caproni, il Fabrizi F5 fu il Festival dell'Occasione Perduta. Nel 1943 furono studiate delle varianti dei caccia Fabrizi, con motore Daimler-Benz in linea e con l'abominevole Isotta Fraschini Z. Ve lo ricordate? Ne ho parlato più volte. L'aeroplano, scusate, il motore 24 cilindri a X, raffreddato ad aria. Quello le cui ultime quattro coppie di cilindri, se andava bene grippavano, se andava male prendevano fuoco. Ecco, vabbè, che vi posso dire? Allora, discorso è sempre questo. Troppo poco, troppo tardi, un aereo eccellente che non fu fisicamente possibile mettere in produzione. Un po' per colpa di Valle e della sua mania delle piccole serie di aeroplani. Un po' perché oggettivamente arrivò troppo tardi ed era già stata impostata la produzione del G50. E il G50, anche se inferiore all'F5, era già disponibile e soprattutto era made in fabbrica italiana automobili Torino. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Questa è un'immagine, eccola qua, questa è un'immagine dei caproni F5, dei caproni Vizzola F5 da caccia notturna. Ripeto, criteri estremamente artigianali, criteri estremamente artigianali, aerei arrangiati, tattiche pressoché inesistenti per ottenere nove vittorie durante tutto l'arco del conflitto. Insomma, cari signori, il caproni Vizzola F5 poteva essere un buon aereo, avrebbe potuto fare molto di più, ma ahimè, non fu possibile, eccone qua un altro esemplare, questo è il prototipo originale, la matricola militare 392 sul campo d'aviazione di Vizzola Ticino con la capotina originale chiusa. Ripeto, poteva essere un eccellente aereo da caccia, rimase un'occasione perduta. Caproni Vizzola F5. Quindi, cari signori, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Grazie a tutti voi, buonasera e soprattutto ciao!